E bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video qui è il mio chiesto che parla e oggi siamo qui su questo nuovissimo video appunto su Call of Duty Black Ops 3 Allora ragazzi è da un casino che non carico tempo, da un casino che non carico tempo, what? È da un casino che non carico video, lo so ragazzi, però ho avuto un pochettino di problemi con la scuola, ho un pochettino di problemi con la scuola Tutte cose che si possono risolvere e quindi ora cercherò di portare più video al giorno Perché mi hanno aumentato appunto la, come si chiama, internet, cioè siamo passati da una 20 a una 35 mega più o meno Quindi mi viene anche meglio caricare video, ora devo abbassare il volume generale dalle mie cuffie perché sennò mi esplode tutto Allora stiamo giocando con 205 brecci perché appunto dobbiamo portarlo al cosoro Perché dobbiamo fare 100 headshot mi pare Ne ho fatti 20 o 21 perché è da poco che lo uso perché non ho puntato a fare headshot Ma ho puntato prima a portarlo al livello massimo e poi a poter sbloccare le varie cose Come sempre vi dico che non sono il più forte ma sono uno dei più scasi di questo schifo di mondo E va bene, sono ancora prestigio 2 Ok, nessun è, 18 ancora Qua ce n'è uno, che palle raga Allora, da dove mi ha ucciso? C'è uno che sta giocando pure con un fucile a pompa Sì, il 205 brecci Allora, o me l'ha fottuto a me Ok Col 205 brecci non sarebbe difficile farlo Perché appunto è un'arma che ha un ratio di fuoco molto, vedete, random Quindi in pratica farlo dovrebbe essere molto easy Allora, stiamo facendo cacare, 3-3 Va bene Chiamate il numero verde, 3-3, va bene Allora, però prendetelo come un video di scuse No come un video che devo fare una determinata challenge Ma come un video di scuse nel quale spiegherò il motivo dove non carico questi video Appunto l'ho detto Che ho problemi a scuola, tutte queste cose Vabbè, problemi a scuola Problemi a scuola è uno che può capire che ha 2 Ma non è così, tranquilli Allora, 2 no, però i 4 No, va bene, meno Cioè sono tutte cose che si possono recuperare, ragazzi Stiamo tranquilli, stiamo tranquilli Allora, qua ce n'è due, li dovrei fare tranquillamente Non li vedevo più, ragazzi Vabbè, non li vedevo più Allora, ce ne dovranno essere due qua dentro Uno là di lato, ce n'è sicuramente Minchia Camperate No, mamma, mamma, mamma Che vi sta dicendo niente Allora, stiamo facendo più schifo che mai Non abbiamo fatto nemmeno un headshot E sta finendo la partita, porco schifo Allora, qua ce n'è uno Ora ci kill Non sono il massimo per i fucili a pompa Però faccio talmente schifo Ok, l'ha ammazzato sto frog No, raga, ho spiegato Mi hanno visto tutti perché ho troppi Ho sparato troppi colpi Ah, ragazzi, ho pure un impulso visivo perché Voglio sbloccare top secret Nel frattempo che avanzo Di rango, tutte queste cose Voglio arrivare Ad avere top secret più o meno per tutti i cosi Ok, no, palle L'avevo ammazzato Cioè, se non avevo macchina da guerra Ok, ok, va bene Un headshot, primo headshot Questo è il primo headshot a metà partita In pratica Ok, ancora niente Cioè, sono un headshot Che schifo è Facciamo proprio cacare Qua ce n'è uno Untiamo la testa No Ok, spariamo No Ok, nemmeno un altro headshot Allora Raga, c'è uno C'è uno Dovevi restare nascosto Ok Sanguidare Buttiamolo a voi Eh, oh cazzo No, 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 no No, che palla, raga, mi ho smirato Bordello smirato Cazzo Perché ho comprato le nuove gommine Per il coso E mi dova ancora abituare Cioè, le gommine per il joystick Non so se bene metto una foto Non so come editerò questo video Se lo editerò Cioè, carica, boom Fatta e carica Ma penso che qualche cosa Lo dovrò ammettere Perché mi dova abituare Pure ai nuovi standard di YouTube Perché No, lo so Perché nascono youtuber Ogni giorno Tutti ogni giorno Editano cazzo Mori Vaffanculo Allora qua ce n'è uno Ok Ok, ricarichiamo Ok Impulso visivo Vediamo dove si muove No Ok, ok Va No Pure lui con 205 brecci Eh, non so se c'ho fuoco rapido qui Possiamo andare subito a vedere Sì, c'ho fuoco rapido Ma non penso che mi aiuti così tanto Fuoco rapido Ok, non ho fatto niente Ok, nessuna è 18 Ma che palle Sto facendo 11-12 Proprio la merda più assoluta Dove rimettermi Propulsione furtiva Ok, niente Qua sopra ci sarà Sempre qualcuno Dovrei usare l'HCXD Dai, usiamo Allora A posto Mi sono salvato Cioè da uno Poi dall'altro no Perché nemmeno l'avevo visto Allora Qua sopra ce ne dovrebbe Sì, ce n'è uno Va bene C'è l'UAV Lo possiamo distruggere l'UAV Va bene, fatto Così magari ci prendiamo Qualche punto in più E ci siamo O sento qualcuno A posto Scusate se sto zitto Ma sto concentrato Per sentire magari Qualcuno Ok, là Quello l'ha ucciso Noi ci andiamo Di a dietro Ricarichiamo Questo è il carico Voglio provare ad ucciderne uno BAM No, non ci riesco Allora Qua non c'è nessuno Ora qua dentro ce ne sarà uno A posto Un'uccisione E' l'UAV E ho l'UAV L'UAV Quindi evitiamo di morire Ce ne dovrebbe essere uno qua dentro Oh, ok, fatto UAV L'abbiamo propulsione furtiva Cioè impulso visivo Propulsione furtiva Che cazzo è Allora, usiamolo Non ho trovato nessuno Va bene Meno male che abbiamo l'UAV Bene Ci aiuta lui No, non ce la potevo fare Raga, ti pare che sono il più forte del mondo Allora, usiamo l'HCXD E andiamo A Uccidere qualcuno Ok, va Stiamo facendo 1915 Cioè c'è uno che non ha Che è morto più volte di quanto ha chi l'altro Allora, questi Non so se vinceremo questa partita Perché è improbabile Ci stanno devastando ragazzi Io sono messo qua che faccio il giro giro tondo Ok Ok Ne abbiamo fatti due Allora, qua Ok, c'è uno dietro di noi Va bene Ok, l'abbiamo ucciso Ce n'è un altro No Ce n'era un altro Sto facendo Cioè mi sono ripreso più o meno dall'inizio All'inizio facevo proprio schifo Vabbè Un pochettino mi sono ripreso Oh, 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 oh Ok Ma che è Si è bloccato, raga Si è bloccato Pensavo che scendeva Scioccante Cioè ora so che posso starmi nella piazzata No, che palle Allora, 77, 88 Mancano a loro soltanto 10 punti Cioè più o meno 11 per l'esattezza Ok Non so se l'audio e il gioco sarà combaciato Però Dovete sapere che Ho cambiato pure postazione Cioè Non so, non mi ricordo se l'ho detto Mi sono messo il pc accanto E la play sempre accanto Quindi Dalla play registro E dal computer Siccome un microfono Decisamente migliore Cioè decisamente migliore Vediamo poi come viene Io provo In caso Vediamo Ok, c'è questo col purifero Che nemmeno va via Allora, qua ci sta ammazzando Impulso visivo Ok, uccidiamolo Ok, va bene Uno fatto Oh, raga Ci hanno Ci hanno Distrutto Comunque ragazzi Per questo video è tutto Noi ci vediamo al prossimo episodio Questa ha fatto una doppia con hcx di Io ero là Guardate Una doppia Si è fatta con l'hcx di Schifo Allora Noi ci vediamo al prossimo episodio Spero che questo ritorno Sia gradito da voi Comunque Ci vediamo al prossimo episodio Bella Da Mega Destroyer Grazie a tutti